Benvenuti su ClaudioMasci.com Oggi è il giorno del Black Friday, in realtà è già una settimana che ci sono offerte varie su diversi siti In teoria oggi dovrebbe essere il giorno in cui ci sono più offerte E questo video voglio farlo per andare ad analizzare e comunque darvi un suggerimento Su come assicurarvi che il prodotto che state acquistando sia effettivamente scontato Perché molto spesso capita di chiedersi ma ok lo stanno vendendo a questo prezzo Ma è davvero scontato? Questo prodotto costava di più prima? A volte si può già sapere la risposta perché magari sono delle cose che avevamo salvate nel carrello Quindi possiamo sapere quanto costavano prima e quanto costano adesso Ma non è sempre così perché magari troviamo nella pagina del Black Friday come ad esempio ho fatto adesso Quindi andiamo nella pagina delle offerte cliccando su Black Friday E andiamo a vedere quali prodotti sono in offerta al momento su Amazon Quindi non possiamo sapere se effettivamente questo prodotto che vediamo è scontato O se il prezzo è finto, quindi se è un finto sconto Cioè ad esempio io vedo questo avvitatore elettrico a 44,99 invece di 64,99 con uno sconto del 31% Ok, sì, ora costa questo Ma davvero ieri costava 64,99? Davvero ho questo sconto? Andiamo a vedere un sito web che ci permette di sapere se effettivamente questo sconto è stato applicato Oppure il prezzo del prodotto era già questo Questo sito web ve l'ho già proposto qualche settimana fa Se non ricordo male Forse fino a ottobre Ed è Camel 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 Un sito web per andare ad analizzare i prezzi dei prodotti su Amazon Quindi ci permetteva di vedere nel tempo le variazioni di prezzo Di fissare un prezzo sotto il quale ricevere un avviso Quindi se il prodotto scende sotto un determinato prezzo riceviamo un avviso Comunque non sto a spiegarvi di nuovo il funzionamento Vi metterò nell'articolo Quindi se state guardando da YouTube cliccate sul link in descrizione Andate sull'articolo Troverete il link all'articolo precedente nel quale comunque spiego come funziona In questo video voglio semplicemente spiegare il suo utilizzo per la giornata del Black Friday Andiamo a vedere un elemento, un prodotto magari che può essere più interessante Scegliamo ad esempio l'Eco Show 5 Tanto per scegliere qualcosa Ok mi dice che al momento è in offerta a 49,99 Mentre prima costava 89,99 Copiamo il link del prodotto E andiamo su camel 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 Andiamo ad incollarlo qui e clicchiamo sulla ricerca Ci troverà il prodotto E ci dice che effettivamente fino a ieri costava 89,99 E ora è sceso a 49,99 In passato a volte è sceso sotto gli 80 euro Ma non è mai arrivato sotto i 70 Quindi effettivamente questo prodotto oggi è scontato per il Black Friday Quindi l'Eco Show 5 è realmente scontato per il Black Friday Più o meno a metà prezzo Se ritorniamo sui prodotti del Black Friday Apriamo proprio questo avvitatore elettrico 64,99 Oggi a 44,99 Copiamo Andiamo di nuovo su camel 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 Incolliamo e rieffettuiamo la ricerca Ok in questo caso non era presente su Amazon Quindi probabilmente questo prodotto è stato messo in vendita oggi Quindi a 64,99 E' scontato adesso Quindi probabilmente questo prodotto non era in vendita in passata Anche se ha 300 voti O probabilmente non era monitorato da camel 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 Quindi comunque non è presente nella ricerca In questo caso non possiamo sapere Vediamo se nuovo di terzi ci dà qualcosa No ok non risulta Quindi questo non era uno dei prodotti monitorati Benissimo Andiamo a vedere qualcos'altro Ci sono solo questi due Ok andiamo sull'offerta del giorno Abbiamo qualcosa di un po' più scontato del 3% Abbiamo il 30% su questo Forse sì forse quello più scontato 44% Quello più scontato è questo Ok vediamo questo Quindi risulta che lo smartphone Huawei P30 sia scontato a 449 invece di 799,90 Non credo che costasse 799,90 fino a ieri Però andiamo a vedere Quindi copiamo il link E andiamo ad incollarlo qui Effettuiamo la ricerca Effettivamente non costava sicuramente 449 Ma neanche quanto dicevano 799 Perché 799 costava a giugno dello scorso anno Però più o meno si attestava sui 600 O sui 520,550 Diciamo qui non so bene È salito un po' oltre i 600 ultimamente Per riscendere Quindi diciamo che Non è passato da 799 a 449 Ma è passato più o meno da 590 forse a 449 Quindi comunque il risparmio c'è stato Ma sicuramente non del 44% Quindi sicuramente non è passato da 799 a 449 Ma sarà sceso probabilmente di 100 euro Allora questo è il metodo per assicurarvi che non stiate ricevendo una fregatura su Amazon Ovviamente non c'è solo Amazon per gli acquisti E non c'è un metodo per monitorare altri siti web Ad esempio se volessi acquistare qualcosa da MediaWord Da 1 euro o da altri siti Il metodo che uso io è confrontare il prodotto su Ad esempio sul sito di MediaWord Con lo stesso prodotto in vendita su Amazon Quindi vedo se il prodotto di MediaWord È effettivamente scontato rispetto ad Amazon Quindi se da MediaWord lo pago effettivamente meno rispetto ad Amazon E poi faccio la stessa cosa con Camel 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 Quindi vedo se il prezzo di Amazon è effettivamente il prezzo originale O comunque non era presente a un prezzo più basso in passato Quindi diciamo che generalmente se non utilizzate Amazon Potete usare Amazon però come confronto Quindi potete utilizzare il sito web sul quale volete acquistare il vostro prodotto Vedere su Amazon quel prodotto, quello stesso prodotto, quanto costa Quindi già da questo potete farvi un'idea Se effettivamente su quel sito web è in offerta oppure no Quindi magari se su Amazon già costa di meno Già probabilmente non conviene acquistarlo lì Anche se non è detto che non sia stato scontato Cioè magari in quel negozio fino al giorno prima costava di più E è stato messo scontato Ma comunque non ha raggiunto il prezzo scontato di Amazon E inoltre possiamo utilizzare di nuovo camel 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 Per andare a confrontare ulteriormente il prezzo Quindi so che questo video l'ho fatto un po' in ritardo Perché il Black Friday è già iniziato Comunque è già da una settimana che ci sono offerte Anche oggi siamo già verso fine giornata Però magari per chi non ha ancora fatto acquisti Sta valutando adesso e vuole fare gli ultimi acquisti Quindi vuole sfruttare il Black Friday proprio nell'ultimo momento Potrebbe essere un buon consiglio, un buon suggerimento Per riuscire davvero a prendere prodotti ad un buon prezzo E quindi non farsi fregare Non farsi sorprendere da un'offerta che in realtà non è una vera offerta Questo è tutto per questo video Come sempre vi invito a commentarvelo se vi è piaciuto Quindi qualsiasi cosa, se non siete d'accordo Se siete incontrati con qualsiasi cosa Comunque commentatemi sempre il video Vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo al prossimo video